Se ne sarebbero altre due, Michi, sei un portiere, uno ci manda, uno ci manda, uno ci manda, vai, ce ne sono altre due là, non giocate Ele, hai dato tutto Ele, Ele, hai dato tutto, lei ormai la tecnica ce l'ha già allora 2 4 6 8 9 ok allora ci mettiamo una con la palla la le altre ci mettiamo 2 2 2 2 allora due che guardano di là due che guardano di là due che guardano di là mettetevi 2 per ogni lato ok 2 per ogni lato allora il lato sono all'interno dei due cinesi quindi una di qua e una dietro una che guarda di là e una dietro dietro qua, quindi dietro vai, dietro di lei due di lì, tu vai dietro di lei perché loro sono c'è la Gio, Gio, vuoi giocare Gio, gli date il cambio voi, allora in pratica l'esercitazione è molto semplice, da lì si gioca palla a chi si smarca nel cinesino là, quindi lei gioca palla io vado col tempo giusto a prendere ricevere palla, mi devo mettere col corpo giusto perché devo giocarla di là, perfetto, quindi io arrivo controllo palla e poi la devo giocare di là, nel momento in cui lei controlla palla si andrà, si parte per andare a ricevere dal lato ok? chi ha giocato palla va a mettersi dietro alla fila di chi è partito, quindi se tu giochi palla là, lei parte, io andrò a mettermi dietro nella fila di questi qua che guardano di là ok? quindi è in continuazione questo tipo di giochi non lo so, puoi ripetere in pratica, lei gioca palla, chi è di qua parte e va a ricevere là, lei gioca palla e poi chi ha giocato palla va a mettersi dietro nella fila di chi è andato dal lato opposto quindi cambio fila, scallo sempre di uno ah ok, fa il giro fai il giro, esatto, così è sempre in continuazione altra cosa, comunque poi le vediamo intanto che giochiamo, vi faccio vedere alcune cose quindi partiamo, lei gioca palla, andiamo a ricevere guardiamo, 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 guardiamo